Dopo lo svuotamento delle acque piovane, qualcosa continua a muoversi nel cantiere ormai abbandonato di via Fabio Filzi. Sono infatti iniziate le operazioni di pulizia, ma resta ancora lontana la realizzazione della sede della Polizia Municipale. I primi movimenti proprio in questi giorni per riportare un po' di ordine nel cantiere e restituire a breve i parcheggi lungo la strada. Sono state infatti chiuse alcune delle aperture con la rete arancione, ma molte restano aperte, permettendo l'ingresso a chi utilizza la struttura come dormitorio oppure come base per lo spaccio e il consumo di droga. Qualche piccolo passo è stato fatto, è giusto ridarci i posti macchina, però il problema del degrado rimane uguale. Io ti dico, abitando qui vedo dei movimenti dentro questo stabile abbandonato impressionanti e come penso io, finché non ci scappa la tragedia, qui rimanerà tutto bloccato come ora. I cittadini nelle ultime settimane avevano presentato ben due esposti per chiedere la messa in sicurezza dell'aria. La struttura di proprietà della diocesi era stata acquistata da un raggruppamento di imprese con a capo un istituto bancario. Attraverso un leasing incostruendo la nuova proprietà si era legata al comune di Arezzo, che alla fine dei lavori avrebbe avuto le chiavi in mano e avrebbe iniziato a pagare le rate sino a riscattarla definitivamente, ma alcuni mesi dopo lo stop ai lavori era conseguente risoluzione del contratto per inadempienza a quella ditta esegutrice. L'amministrazione, come dichiarato dallo stesso primo cittadino in consiglio comunale, sarebbe in attesa di un nuovo partner del settore edile in grado di subentrare. Prima però dovranno essere valutati gli aspetti legali e burocratici affinché si eviti di avere ricorsi al TAR, ma al momento non ci sono novità. Il piano B sarebbe invece quello di una proposta d'acquisto del bene da parte dello stesso comune. Poi l'amministrazione potrebbe procedere con un bando pubblico per assegnare i lavori di completamento. C'è bisogno di un intervento? No, sarebbe il caso di portare a termine questo lavoro, questo cantiere, per ridare anche un po' di dignità al quartiere.